eccoci ciao a tutti siamo qua nel camerino degli degli storiettese poche ore pochi istanti anzi dall'inizio del concerto qui a pala sharp come si vede c'è una tensione fortissima che si taglia con il coltello vorrei affermare che non è vero come ha scritto quell'imprecisione del corriere che io aspetterei un figlio perché infatti sono andati in questo modo lei mi ha chiesto ma vorresti fare dei figli e io le ho detto sì questo si è trasformato nella mia frase che tutti possono leggere nell'intervista sul corriere che poi ha provocato tipo ventine di telefonate di gente che si congratulava con me perché stavo aspettando un figlio cari amici il mestiere del giornalista è un mestiere difficilissimo ma c'è un sacco di gente che lo fa molto male e con questa frase voglio salutarvi e darvi appuntamento a fra qualche ora del concerto degli elio le storiettese un grossissimo salutone da rocco tanka da elio di elio e le storiettese